La stessa linea genetica del MAS 808 OL ci porta di fronte a un'altra novità nel 2020, MAS 830 OL, pianta sicuramente più vigorosa, la vedete più alta, più robusta sia nell'impianto del fusto che delle foglie e dal ciclo medio precoce. Quindi vuol dire che non abbiamo più quella flessibilità di utilizzo dell'808 ma dobbiamo stare sulle prime epoche di semina. La linea genetica sta nel contenuto in acido oleico molto alto e molto stabile. Aspetto poi da non tralasciare è la resistenza alla peronospora. Tutti i prodotti che vi stiamo presentando nel nostro catalogo sono RM9, ovvero una resistenza massima ai ceppi di peronospora attualmente conosciuti.